Salve allenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Abbiamo dunque completato il quadro della Serie A con l'ultima neopromossa dalla Serie B grazie appunto alla partita di ieri sera tra Cittadella e Venezia. Il Venezia si è qualificato con un pareggio acciuffato l'ultimo secondo ma che comunque la sconfitta avrebbe comunque fatto passare il Venezia. Una partita veramente epica e storica, molto combattuta. Complimenti a Cittadella per quanto ha messo in campo dopo la sconfitta andata 1-0 e complice anche all'assenza di Baldini. Ha comunque dimostrato di saper fare veramente un ottimo lavoro. Espulsione iniziale di Mazzocchi che ha un po' segnato la partita, poi gol del Cittadella. Se aveva un altro gol al Cittadella così non è stato. Poi Boccarò nel finale appunto ha concluso il pareggio e ha permesso di portare in Serie A il Venezia dopo un periodo molto lungo di 19 anni. Partiamo dunque ad analizzare il Venezia anche per il prossimo anno con un po' di curiosità tra cui appunto la maglia, questi colori nero, verde e arancio. Tanti di voi si chiederanno come mai questi colori. Inizialmente il Venezia aveva una casacca somigliante a un rosso-blu. Il rosso-blu che era un po' in combutta con la rivale storica che era il Genoa. Quindi si è deciso di cambiare i colori sociali, mettere il nero delle gondole, il verde della laguna. Poi dopo anche con la fusione della società mestrina del Mestre si è aggiunto colore arancione proprio del Mestre e è diventata questa bellissima casacca a mio avviso con questi bellissimi colori nero, verde e arancio. Veramente una divisa bellissima e mondiale. La proprietà del Venezia è il presidente Duncan Niederauer, ex presidente e CEO della Borsa di New York quindi una presidenza importante, una cordata americana che possiede appunto Venezia quindi soldi importanti per quanto riguarda questa bellissima squadra e soldi che appunto permetteranno di crescere ancora di più col calcio mercato e che hanno permesso di passare dalle ceneri del fallimento a una nuova riconquistata Serie A. Il Mestre Paolo Zanetti, un grandissimo Mestre, mi avviso molto giovane, 38 anni 45 panchine col Venezia, una media punti per partita di 1,62 i suoi modelli preferiti sono il 4-3-1-2 o il 4-3-3 è comunque un Mestre giovane e interessante sulla scorta di Dionisi dell'Empoli quindi mi avviso giovane e interessanti per la Serie A. Come vi dicevo l'ultima Serie A conquistata da Venezia fu 19 anni fa e proprio in quell'occasione ci fu anche la Serenitana quindi entrambe le squadre si trovano a braccetto nuovamente in Serie A quindi Venezia e Serenitana di nuovo in Serie A dopo 19 anni. Il Palmarès della Venezia è una Coppa Italia, ottimo risultato per la squadra veneta due campionati di Serie B e come Serie A ha un record storico come terzo posto nel 41-42. La formazione base che schierava il Venezia quest'anno era un 4-3-3 Maimpa in porta, Mazzocchi in modulo, Cercaroni e Molinaro in difesa Sernigoi, Tagordeo e Malè a centrocampo Aramo, Forte e Di Mariano come punte centrali quindi veramente una bellissima squadra ha concluso al quinto posto in Serie B e poi durante il playoff si è sfogata battendo prima il Lecce a cambio Palma grazie al rigore svetto di Mancosu e poi questa bellissima e combattutissima finale con il Cittadella. A mio avviso il top per quanto riguarda il Venezia e anche il Fantacaccio è sicuramente il numero 10, Aramo, classe 95 quest'anno 30 presenze, 9 gol e 4 assist con ditti da 5 gialli Abbiamo visto un talento importante, ancora in crescita quindi un potenziale buon quinto nelle vostre leghe può essere preso come scommessa ma sicuramente può fare bene chiaramente da pagare il prezzo limitato e il prezzo giusto. Il bomber è forte, classe 1993 quest'anno ha fatto 30 presenze, ha fatto 12 gol prendendo solo 3 gialli, non è un bomber di razza ma comunque fa un lavoro sporco davanti ed è un giocatore interessante come riempimento per le vostre leghe che chiaramente non prendetelo neanche come semi top ma come quarto o quinto slot in leghe numerose o come sesso slot in leghe meno numerose chiaramente da verificare con il calcio mercato se ci saranno ulteriori investimenti nel reparto offensivo del Venezia La scommessa è Malè, classe 1998 quest'anno 26 presenze col Venezia 4 gol, 2 assist, 8 gialli ma una presenza importante in mezzo al campo però su di lui pesa questa incognita perché appunto finisce a prestito con la Fiorentina quindi tornerà a casa a Firenze da verificare solamente se Gattuso vorrà avvalersi delle sue performance oppure magari di tornare a fare un prestito nuovamente a Venezia chiaramente è tutto da valutare ma Malè ha fatto veramente un ottimo lavoro lo vedrete adesso nel brevissimo anche con l'Under 21 se vi interessa il prospetto può essere sicuramente molto interessante in ogni caso resterà in Serie A perché comunque anche la Fiorentina dovesse riscattarlo o comunque tenerlo giocherà sicuramente bene anche in maglia gigliata quindi abbiamo avviso un ottimo prospetto ma lì andate a seguirlo in questi europei perché veramente il ragazzo può fare molto molto bene come vi dicevo la previsione per il 2021-2022 del Venezia è ancora un po' prematura ma sicuramente lotterà per la salvezza molto difficile chiaramente al momento parte tra le squadre più arretrate quest'anno in Serie B ha fatto 53 gol ha subito 39 gol sicuramente la fase difensiva è una buona fase dalla quale partire ma chiaramente è una squadra che va migliorata chiaramente in tutti i reparti in Serie B ha chiuso a quinto posto quindi non ha chiuso ha chiuso dietro a Monza ha chiuso dietro a Lecce quindi era abbastanza impronosticabile una sospedita in Serie A ma comunque ce l'ha fatta vincendo bene entrambe le partite è sicuramente un progetto interessante che ha portato dal fallimento alla Serie A la società lagunare quindi la proprietà americana la sta seguendo filo filo passo passo e quindi devo dire un ottimo progetto è sicuramente una squadra da valutare in base al cio mercato perché a mio avviso per affrontare la Serie A è sicuramente un paio di innesti per il reparto vanno presi chiaramente il super capitano modulo può far fare ancora un'ottima annata è un capitano storico del Venezia quindi un attimo regolarista anche per le vostre difese come il settimo o tavo slot sicuramente ve lo consiglio la buona fase difensiva c'è quindi può fare sicuramente bene e sicuramente per arrivare alla salvezza bisogna fare in questo modo quindi avere meglio una fase difensiva importante ma chiaramente servono anche i goli quindi serve una fase di costruzione importante quindi credo che uno o due nominativi per reparto vadano sicuramente acquistato forse il bomber forte è un po' leggerino per la Serie A 12 gol in Serie B non sono stati tantissimi è vero che anche Enzolala l'anno scorso in Serie B non fece catarvi di gol per poi quest'anno dimostrarsi molto utile alla causa spezzina quindi devo dire che Forte se dovesse rimanere come punta centrale può essere preso come dicevo prima come quarto o quinto Zlot in leghe in leghe numerose come stesso Zlot in leghe meno numerose Aramu è molto forte in mio avviso un'ottima qualità deve forse migliorare un po' di più dal punto di vista mentale qualitativo ma dovesse fare questo saldo potrebbe fare molto bene il discorso malè è un discorso importante è un giocatore veramente molto giovane in prospettiva può essere un ottimo innesto anche per il fantacalcio comunque si fa quantità in mezzo al campo ma comunque anche qualche bonus lo porta l'assist di ieri sera per il gol di Boccalone al momento a mio avviso con la Salernitana sono le due squadre che rischiano di più sicuramente il calciomercato porterà dei buoni giocatori la proprietà americana sicuramente non vorrà sfigurare quindi sicuramente farà degli nesti importanti per cercare di mantenere la salvezza in questa bellissima realtà però comunque è al momento ostica però come è successo lo scorso anno per lo Spezia poi con degli nesti importanti con comunque un allenatore che ha fatto giocare a calcio sicuramente ha fatto la sua figura a differenza magari dal Crotone che comunque non ha curato molto bene la fase difensiva ha avuto un po' di problemi con i mister credo che comunque un po' di garanzia su Zanetti si possa avere quindi devo dire che può essere un progetto interessante a livello di fantacalcio al momento pochi innesti se non appunto come quarti e quinti slot di vari reparti però comunque è utile conoscere i nomi quantomeno per avere un'idea importante del fantacalcio diciamo che se dovessi consigliare due nomi delle neopromosse vi posso dire in difesa che farei Sabelli e Modulo magari averli come settimo tavo slot per poi puntare su giocatori importanti a livello di modificatore di difesa però questi sono sicuramente giocatori importanti a livello di presenze che sicuramente possono garantire buona regolarità e comunque vi servono solamente per la panchina queste sono cose informazioni che volevo darvi spero che il video sia stato di vostra utilità ci sentiamo brevissimo per quanto riguarda il fanta europeo del veterano il fanta europeo perché avremo novità importanti vi ricordo che siamo quasi a quota 5.000 iscritti di fatto perché preannunciavo entro l'estate quota 5.000 quindi grazie di cuore che voglio fare un po' di condivisione di pubblicità del canale qui sotto trovate due link importanti uno per scaricare l'app di Magic Goal e uno per scaricare le informazioni per potersi abbonare al canale chi vorrà abbonarsi al canale mi farà veramente un grande piacere perché appunto il canale sta crescendo molto bene quindi anche a livello qualitativo volevo migliorare ancora di più mi ricordo infine che il fanta calcio è il gioco più bello del mondo dopo il calcio quindi siamo protagonisti di un bellissimo gioco grazie di cuore a tutti per l'attenzione ci sentiamo prestissimo una buona giornata a tutti buon fanta calcio a tutti buon fanta europeo a tutti a questo punto ci sentiamo prestissimo ciao ragazzi